Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video della serie Ellie is waiting for Christmas! Oggi sono qui per un video molto 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 particolare e diverso dal solito, non ho mai fatto un video di questo tipo ma è successo tutto per caso perché Matteo ha ben pensato, siccome siamo in lockdown quindi non ci possiamo vedere purtroppo in questo periodo, ha pensato di farmi un regalo anticipato e mi ha inviato un cofanetto regalo di MySelleria. Come sapete su MySelleria, ve l'ho fatto vedere anche l'anno scorso, vi lascio il video dell'anno scorso nelle schede se per caso vi interessa vedere che cosa avevo preso l'anno scorso. Su MySelleria c'è una sezione dedicata ai cofanetti regalo, vi faccio vedere in sovraimpressione appunto la pagina dove potete trovare i cofanetti regalo, ovviamente li lascio anche qui giù nell'info box. Ci sono dei tagli da 25, 50, 75, 100 e 200 euro. Questi cofanetti regali vengono inviati con una spedizione super super veloce, come sempre da 24 ore praticamente e ovviamente con spedizione gratuita, cosa top. Mi è arrivato questo cofanetto regalo da parte di Matteo che poi appunto voi aprite e trovate il vostro buono con dentro il codice che potete usare sul sito e io ho pensato questa volta invece di scegliere io che cosa acquistare su MySelleria ho deciso di far scegliere direttamente a Matteo che cosa acquistare con il buono che lui stesso mi aveva regalato e ovviamente visto che siamo in lockdown non ci possiamo vedere, non può essere qua fisicamente ma sicuramente non avrebbe accettato perché come sapete si vergogna tantissimo però ha accettato di acquistare lui qualcosina, giusto per vedere se mi conosce, se sa più o meno che cosa mi serve e me lo ha spedito, quindi ecco qua il pacco super misterioso allora io non so che cosa ci sia dentro questo pacco quindi oggi lo spacchetteremo insieme ovviamente ho deciso di fare questo video perché secondo me l'idea del cofanetto regalo è super 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 carina soprattutto in questo periodo in cui molte persone non le possiamo vedere, non possiamo vedere i nostri amici, fidanzati e quindi inviargli un pensiero di questo tipo è davvero geniale, io l'ho apprezzato tantissimo in questo periodo è un'idea veramente geniale inviare un cofanetto regalo perché appunto la persona potrà scegliere che cosa acquistare in base alle proprie necessità ma voi vi avrete fatto un'ottima sorpresa io veramente sono rimasta stupita da questa sorpresa e ho deciso di approfittarne anche per fare un video super divertente e quindi ora vedremo che cosa Matteo ha scelto di acquistare per me su MySelleria come sempre spacchettamento in diretta scopriremo letteralmente che cosa c'è nel pacco fermi tutti vedo già qualcosa di... non ci credo, non ci credo, anche questa volta abbiamo scampato la cintura col filetto quante volte ho detto che volevo la cintura col filetto? No allora questa qui è una cintura nera per fortuna non marrone, nera con queste decorazioni che ricordano tanto quelle decorazioni che trovate sulle capezze di cuoio solitamente aggiungo un sacco di buchi alle cinture, sì infatti mi va stra bene molto 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 carina però anche questa volta abbiamo sviato la cintura con il filetto quindi dovrà rimanere nella mia wishlist ancora per un bel po' comunque devo dire è molto carina, poi di una qualità altissima cioè mi piace molto come materiale, molto morbido devo dire che sono stupita questa è super 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 approvata e gli do un bel 9 perché è proprio bella proprio bella pantaloni aiuto allora pantaloni aiuto innanzitutto guardiamo subito la taglia la taglia winner deve aver guardato nel mio armadio i miei pantaloni o i miei video perché non so taglia 44 grande taglia azzeccatissima però non mi sembrano i miei pantaloni infatti sono diversi ah ma sono diversi hanno il grip hanno il grip sul ginocchio come vedete top con questi non ti scolli dalla sella neanche un attimo e ovviamente li andrei a provare subito dopo avervi fatto vedere gli altri prodotti in modo che li possiate vedere in sovraimpressione vi faccio vedere se mi vanno se la taglia è corretta come sempre ma penso di sì perché la taglia è la winner cioè perché la marca è la winner e quindi credo che la taglia 44 mi vada sempre bene sono un po' leggeri quindi mi sa che è una versione un po' estiva però secondo me anche in inverno con sotto una calzamaglia si usano tranquillamente top il voto non glielo do ancora perché non so se mi vanno bene quindi aspettiamo di provarli poi vedo una cosa strana giacca impermeabile trasparente taglia S marca HKM top è una giacca impermeabile per montare credo ma è lunghissima allora ovviamente proverò anche questa subito dopo così vi faccio vedere come mi sta taglia S per fortuna secondo me mi sarebbe andata benissimo anche una XS perché vedo che è bella enorme però secondo me se piove se c'è temporale in maneggio così che devi coprirti è una cosa carina secondo me è un'idea molto carina molto particolare sinceramente non ci avrei mai pensato cioè io non so se ci avrei mai pensato a prendere questa cosa però è comunque un'idea geniale che apprezzo vedo un set è molto 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 carina come idea e poi anche le tasche qua davanti allora ultima cosa è questa poi non c'è più niente quindi possiamo togliere anche la scatola è una borsa per il grooming da quello che capisco allora qua c'è scritto horse and travel si è borsa grooming per equitazione bon ci ho azzeccato allora si trasporta così e già qua l'abbiamo capito apriamo no vabbè avete capito che cos'è è quella borsa per il grooming da appendere sto male sto male marca horse and travel blu bellissima con questi inserti marroni molto classici mi piace tantissimo ha qui il gancio per essere appeso ecco perché ho capito che è da appendere c'è il gancio qui ha la prima tasca poi ci sono qua un sacco di taschine un sacco di scomparti e infine questa tasca gigante devo dire che sono piacevolmente colpita da questa borsa cioè io neanche a questa avrei pensato in realtà perché è una cosa a cui in realtà non avevo mai fatto caso ma è molto comoda cioè devo dire che è un regalo geniale da fare e sono molto colpita dai regali che mi ha fatto Matteo perché in realtà sono tutti super 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 azzeccati sono rimasta molto colpita e contenta da questi regali sono anche devo dire soddisfatta ovviamente ribadisco il fatto che secondo me è un'idea geniale regalare il cofanetto regalo di MySelleria perché appunto date la possibilità alla persona che lo riceve uno di ricevere un'ottima sorpresa a distanza perché ovviamente glielo potete inviare a distanza ci penserà MySelleria a inviarlo e tra l'altro avete pure la spedizione gratuita quindi farete un'ottima sorpresa e poi darete la possibilità a quella persona di scegliere le cose che gli servono insomma in base alle proprie esigenze bene ragazzi io spero che questo video vi sia piaciuto ovviamente fatemi sapere qui nei commenti secondo voi se Matteo ha scelto bene le cose da regalarmi e quale di queste cose vi è piaciuta di più io vi mando un grande bacio mi raccomando iscrivetevi al canale seguitemi su tutti i social network e noi ci vediamo al prossimo video ciao ciao